Mi trovo alla biblioteca Alfredo Oriani, situata di fianco alla tomba di Dante e anche sede della mostra Dante Plus. La mostra, in compartecipazione con il Comune di Ravenna, vuole riunire artisti differenti provenienti dal mondo dell'illustrazione, del fumetto e della street art, dando una nuova identità a sommo poeta. All'interno troverete anche delle opere realizzate in realtà aumentata. Per Dante Plus Soft Edition sono state selezionate circa 30 opere in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiano di Sofia e collocate all'esterno dell'ambasciata italiana.